Come si può comunicare oggi la Chiesa? Esiste un grande comunicatore che si chiama Papa Francesco, però non tutta è comunicazione di vertice, questo corso lo dimostra, le parrocchie, la gente vuole parlare di Chiesa. Assolutamente sì, il Papa è uno storyteller speciale e tutti noi siamo chiamati a trovare le storie. In casa nostra, sul territorio, sono moltissime, penso alle storie di mamme che accutiscono i bambini, di papà che cercano lavoro dopo un momento di crisi. Ecco, raccontare le storie significa in qualche modo consegnare delle parole che hanno la forza della vita, hanno l'urgenza di un appello dell'esistenza, quindi questo è quello che credo sono chiamati a fare i comunicatori delle parrocchie, che molto spesso sono dei volontari, quasi sempre, diciamo sempre sono dei volontari. Il volontario è colui che non ha una remunerazione, ma non perché il suo lavoro vale poco, ma proprio al contrario, perché il suo lavoro è inestimabile. Anche per questo, pur dirigendo una struttura così importante della Chiesa universale, come fai tu, è comunque rilevante confrontarsi con la base, chiamiamola così? Assolutamente, il modello che stiamo cercando di studiare, svilupperemo, è un modello come si dice top down, cioè mettiamoci alla finestra, guardiamo chi sono le persone, quelle concrete, i loro bisogni, i loro desideri, i loro modi di costruire le relazioni e da lì appunto costruiremo dei servizi. Quindi la realtà, incontrare le persone è assolutamente centrale nel nostro lavoro.